Ciao! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album del libro Shea, numero 7, che è valido fino al 4 giugno 2017. In questo album vedrete tantissime promozioni, set per la cura del viso e dei capelli, alcuni solari in offerta e soprattutto novità make-up, quindi direi di iniziare subito a sfogliarlo. Allora, eccoci qui a sfogliare il nuovo catalogo. Vediamo subito dal sommario che ci sono tantissimi set e tantissime novità, ma iniziamo subito con i trattamenti viso. Eccoli qui! Abbiamo il primo set della linea Idra Vegetal, che comprende il gel detergente freschezza e l'acqua micellare idratante 2 in 1 a 8,95. Oppure, eccolo qui, della linea Sebo Vegetal, il gel detergente purificante, l'acqua micellare purificante 2 in 1 a 9,95. Andiamo avanti, quindi linea Sensitive Vegetal, latte detergente aditivo più acqua micellare aditiva 2 in 1 a 9,95. Ovviamente, anche i trattamenti viso anti-età, quindi il set della Serum Vegetal, che comprende il latte detergente più la lozione tonica perfezionatrice a 9,95. Vi mostro ora una novità make-up, perché c'è la nuova terra abbronzante. E devo dire che fatta in questo modo, quindi a metà tra i due colori, mi piace tanto. Adesso ve la mostro meglio. Però la vecchia versione aveva solo tutto un colore, poi un pallino da un lato col colore più scuro, e non riuscivo a prelevarlo bene. Mentre fatta così, mi piace davvero tanto. Allora, 14,95 è l'astuccio da 15 grammi, ed è in queste colorazioni, quindi dalla più chiara, eccola, alla più scura. Ed è sempre divisa in un colore un po' più chiaro e un colore più scuro. Davvero mi sembra fatta molto molto bene. Finiamo ora alla promozione dei solari, perché acquistando 25 euro di solari, che adesso vi mostro, si ha in omaggio a questa novità, che è l'acqua attiva abbronzatura. Che è perfetta per preparare la pelle al sole, e poi aiuta anche a prolungare l'abbronzatura. Quindi è davvero fantastica ed è molto idratante. Ed si inizia ad applicare subito, ed è qualche settimana prima di esporsi, magari andare al mare o così. E poi dopo si continua comunque a tenere idratata, anche durante il periodo che siamo in esposizione, e anche dopo, perché no. Il prezzo sarebbe di 9,95, ma è in omaggio con 25 euro di acquisti di solari, tra questi che ora vi mostro, comunque tutte le linee. Quindi la protezione 15, protezione 20, protezione 30, la 50 più, i dopo sole. Quindi davvero tutti i prodotti 25 euro e si ha in omaggio l'acqua attiva abbronzatura. Ora veniamo ad un'altra promozione, che è quella dei set per i capelli. Abbiamo a 5,95, scostiamoli qua, il 2 shampoo, eccoli qua. Ad esempio questo è il trattamento nutriente, i flaconi sono 300 ml l'uno, quindi davvero belli grandi. In questo caso abbiamo quello per trattamento nutriente, ma ci sono anche quelli per trattamento riparatore, quello lisciante. Sempre il 5,95, ecco per tutte le linee di shampoo. Eccoli qui, ed è trattamento luminosità. 7,95 invece il trattamento antiforfora, due ovviamente confezioni. 7,95 anche quelli anti caduta. Mentre torniamo al prezzo di 5,95 con quelli per il shampoo volumizzante, lo shampoo 3 in 1, ed è quello purificante, quello anti età. E quello per capelli colorati, quindi capelli ripresitorati, oppure riflessi castane, oppure riflessi d'argento. In questo caso mi sa che lo prendo davvero, perché io adoro quello per riflessi castane. 5,95 anche il set 2 shampoo, e quelli crema delicata adatto anche ai lavaggi frequenti. Eccolo qui, oppure quello per tutta la famiglia, quello dedicato alla mamelis. E questo era tutto il catalogo. Allora, abbiamo sfogliato tutto il catalogo, vedete che ci sono davvero tante promozioni. Vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per tutte le informazioni e gli ordini. Qui sotto c'è sempre anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer, smartphone, tablet, come volete. E vi ricordo che è valido fino al 4 giugno 2017, e non mi resta che augurarvi buoni acquisti ottimamente perfumati, con il maggiocatore al mondo di Vrochie.